Protesta vibrata e partecipata dei dipendenti Oshan di Taranto davanti all'ingresso centrale dell'ipermercato non solo i 50 dipendenti a rischio licenziamento ma anche molti loro colleghi per solidarietà. Non siamo numeri ma persone che abbiamo già dato tutta la disponibilità possibile all'azienda. Abbiamo anche investito nelle azioni, abbiamo dato i nostri permessi, i nostri festivi, le domeniche, tutto, le nostre famiglie e oggi che fanno? Dicono che siamo in esubero. A Taranto la manifestazione andrà avanti per l'intera giornata chiedendo anche solidarietà ai cittadini invitati a non entrare. Giovanni D'Arcangelo, segretario Filcams CGL. Aprirà una trattativa con l'azienda perché c'è una procedura di licenziamento collettivo in atto quindi l'azienda è obbligata a stare dentro il confronto sindacale dentro i tempi previsti dalla procedura. È anche vero che però Oshan in queste ore sta cercando di avvicinare singolarmente i lavoratori cercando di convincerli ad accettare riduzioni contrattuali e questo è un altro elemento che per noi è assolutamente inaccettabile.